...vedere in un altro modo in 11 contro 11, ma comunque positiva e il fatto che può adattare tante giocatrici in altri ruoli non è una cosa da poco. Diciamo che non posso adattare tutti, però Marta è una giocatrice molto intelligente, poi di solito insomma con noi ha fatto il centrale di centrocampo, quindi cambia poco. Io in questa settimana l'ho allenata perché non è facile prendere una giocatrice e spostarla. Marta è intelligente, quindi praticamente questa settimana l'ho messa sulla linea difensiva, gli abbiamo spiegato un pochino quali devono essere i movimenti, ma mi è piaciuto perché era addirittura lei che guidava le altre, quando dovevano salire, quando si dovevano fermare, insomma è stata una prestazione molto positiva. L'ultimissima cosa, cosa hanno detto alle ragazze tra il primo e il secondo tempo? No, che dovevamo continuare a giocare come stavamo facendo, avevo dato delle indicazioni su come giocare con 4-4-1, però poi dopo due minuti ho cambiato, quindi no, solo di tenere il campo, di cercare di mantenere il possesso palla senza rischi.